Buongiorno, Buongiorno, buon sabato 26 di novembre, ben trovati a mattino 6, il quotidiano appuntamento con la nostra rassegna stampa giutto all'ultimo appuntamento della settimana. Allora, andiamo a vedere subito insieme i giornali, iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Questa è la prima pagina del centro, nella edizione di Pescara, indagati di Matteo e Berardinetti, il titolo di apertura sull'inchiesta che ha coinvolto l'assessore regionale ai lavori pubblici, inchiesta portata avanti da IPM di Avezzano sugli appalti per le piste da sci e che coinvolge anche diversi amministratori locali. e poi a centro pagina la fotonotizia invece che riguarda le banche, dalla BCE, primo via libera alla cessione di UbiBanca, vedete la fotografia, rivolgiamo tutti i soldi che ci avete rubato, uno dei cartelli appunto con dei manifestanti, dopo mesi di tira e molla, la Banca Centrale Europea ha dato un informale assenso alla richiesta dell'istituto guidato da Victor Messia di acquisire tre delle quattro Goodbank, oggetto di un decreto del governo guidato da Matteo Renzi. Oltre all'istituto abruzzese, l'operazione convolge Banca Etruria, che è anche riflessi nella nostra regione, e Banca delle Marche. Nelle cronache a Pescara Comune, tasse al massimo anche nel 2017, la Giunta Comunale ha approvato il bilancio da 107 milioni di euro per il prossimo anno, le imposte locali, i mutasi addizionali di PEF, restano con le aliquote più alte. E poi la nuova sede della regione sarà nella City, nonostante l'inchiesta che riguarda proprio il progetto edilizio nei pressi dell'aeroporto di Pescara. E poi Pianella gioca con l'alcol e il fuoco, un tredicenne viene ustionato. Nel taglio basso troviamo invece lo sport, l'attaccante del Pescara Gianluca Caprari, in visita al centro, il bomber dice salvezza possibile. Il Pescara deve tornare a giocare con spensieratezza. La punta bianca azzurra in dubbio per la sfida dell'Olimpico di domani, alle 20.45 contro la Roma, a ruota libera sulla squadra. Non siamo inferiori alle altre compagini che lottano per non retrocedere. Sul momento personale la convocazione nazionale è solo un punto di partenza. Domani forse buyback titolare, ne sapremo di più nel corso della conferenza stampa del tecnico Massimo Oddo prevista in tarda mattinata. Andiamo adesso nel taglio alto. Il legittimo limitare le distanze, metano dotti, la consulta boccia la legge regionale. Poi congresso a Giulianova, i vegetariani siamo tanti, vogliamo diritti. Sono arrivati appunto da tutta Italia, i cultori della dieta naturale, per una due giorni di convegno. Invece andiamo a vedere lo spazio dei richiami del nazionale, referendum, il premier Renzi, niente intese se vince il no. Il presidente del Consiglio attacca chi nel partito è fuori, disegna scenari per il dopovoto e boccia ogni ipotesi di governo tecnico. L'ultimo che ricordo, quello guidato da Mario Monti, ha alzato le tasse e fatto calare il PIL. E ancora il maltempo, Nord sott'acqua, un morto e due dispersi. Andiamo avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. e adesso andiamo ad aprire le altre prime pagine delle altre edizioni provinciali. Iniziamo dalla prima di Chieti, Lanciano Vasto. Il titolo di apertura è lo stesso che abbiamo visto in precedenza e che riguarda l'inchiesta che coinvolge l'assessore regionale Donato Di Matteo. Nelle cronache a Pretoro giocano 10 euro e vincono 2 milioni e festa in paese. ovviamente caccia ai fortunati scommettitori del gratte e vinci che con un tagliando da pochi euro hanno portato a casa un premio milionario alla vincita al Bar della Posta sulla strada per Passo Lanciano. E poi a Chieti, morta la donna investita dal Pumman. A San Salvo sorprende i ladri in casa all'ora di cena. Nel taglio basso Chieti spogliato della tuta delle Pescara arrestati tre ultra neroverdi per tutti. L'accusa è quella di rapina. Tre supporte del club sono stati arrestati dalla Digos lo scorso 30 di ottobre. Hanno costretto un giocatore del Pescara Calcio a 5 Under 21 che era in auto a togliersi la tuta di rappresentanza della squadra bianca azzurra. Dopo averlo ingiuriato e minacciato è stata perpetrata appunto la rapina l'operazione coordinata dal PM Ponziani. E poi il calcio di Serie D la vastese con i dubbi Russo e Galizia. Adesso andiamo ancora avanti con la lettura del quotidiano Il Centro. Cambiamo ancora una volta edizione e ci spostiamo sulla prima pagina di Teramo. Impostazione praticamente uguale se non diversa nelle cronache. Doppio incidente. Cadono mentre sono al lavoro due feriti gravi. Il primo infortunio a Notaresco dove un 68enne è precipitato da un'impalcatura montata in una chiesa e il secondo a Secciola di Teramo un 41enne è scivolato da una scale. Poi Giulianova inchiesta sugli appalti c'è di Leuterio e il terremoto. Cimiteri inagibili 11 su 16. Rebus sepolture. Nel taglio basso troviamo il calcio di Lega Pro. Ovviamente in primo piano il Teramo oggi a Reggio Emilia. Senza Jefferson e Croce. Intanto per l'inchiesta di Irti Soccer gli atti passano al Tribunale di Savone. Biancorossi come detto in campo al Mapei Stadium alle 18.30 nella quindicesima del girone B. Nofri deve fare a meno di due attaccanti. Il primo che si avviava verso il rientro e di nuovo in infermeria. Il secondo pure lui infortunato. Recuperato intanto Bulevardi gli atti di Savona-Teramo per l'inchiesta di Irti Soccer trasferiti da Catanzaro a Savona. Andiamo ancora avanti. Resta da vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro e cioè la prima pagina dell'edizione di L'Aquila-Vezzano sul Mona. E allora andiamo subito nelle cronache. Asl dell'Aquila. Visite e vaccini. Liste d'attesa interminabili. Per i pazienti si tratta di un'odissea infinita. A causa dei tempi inaccettabili il manager Rinaldo Tordera pronto a trovare soluzioni per ridurre i disagi. A Castel di Sangro strage di cani per la guerra dei tartufi e poi all'Aquila senza l'acqua Santa Croce rischio la vita. Questa la testimonianza. Nel taglio basso sul Mona città stupenda con le donne Fiorella Manoia in visita al comune prepara il nuovo tour arrivata per curare l'allestimento del prossimo spettacolo che porterà in giro per i teatri d'Italia e che prende il nome dal suo ultimo disco Combattente. L'artista ha interrotto le prove per complimentarsi con il sindaco Anna Maria Casini e con le altre donne che fanno parte della giunta comunale. Invece all'Avezzano accoglienza e sicurezza nel dibattito con le scuole. Adesso cambiamo testata e ci spostiamo sul quotidiano il messaggero per andare a vedere insieme anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo. L'apertura è dedicata alla cronaca giudiziaria con l'inchiesta che vede coinvolto l'assessore regionale Donato Di Matteo appalti, avviso a Di Matteo impianti da sci il PM di Avezzano con testa, corruzione e turbativa d'asta insieme all'assessore regionale indagato il consigliere sindaco Berardinetti. Andiamo a leggere lo stralcio dell'articolo a pagina 50 ci sono due indagati eccellenti della maggioranza di centrosinistra che governa la regione dell'inchiesta sugli appalti per il rifacimento degli impianti scistici di Pescasseroli, Cappadocio e Dovindoli si tratta dell'assessore regionale ai lavori pubblici Donato Di Matteo e del consigliere regionale di Regione Facile Lorenzo Berardinetti presidente della commissione agricoltura e sindaco del comune marsicano di Sante Marie a quanto si è appreso da fonti investigative sono sotto inchiesta per le ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta la loro posizione però potrebbe essere marginale per questo non si esclude che dopo i chiarimenti tutto venga archiviato gli avvisi di garanzia sono scattati in seguito all'atto della proroga delle indagini chiesta e ottenuta dal PM titolare dell'inchiesta Maurizio Maria Cerrato Di Matteo ha dichiarato di non avere ancora ricevuto alcun atto giudiziario mentre del tutto estraneo alle accuse si è dichiarato il consigliere Berardinetti altra inchiesta invece quella che riguarda il presidente della tua Luciano D'Amico nessun vantaggio dalla presidenza della tua il rettore indagato per il suo incarico nell'azienda che gestisce il trasporto pubblico in Abruzzo si difende attività per cui non ho mai avuto nulla né soldi né benefit e poi a Pescara a Sanzificio chiuso il TAR conferma il provvedimento vittoria su tutti i fronti per il comune nella vicenda dei cattivi odori provenienti dal Sanzificio il TAR ha rigettato il ricorso presentato dal titolare della ditta che gestisce l'impianto andiamo adesso di spalla vincono 2 milioni con il gratta e vinci pretoro il paese da mili abitanti una coppia di amici li conosciamo giocano 10 euro grattano e vincono 2 milioni e la cifra da sogno che si sono aggiudicati al bar della posta di pretoro centro montano del Chietino di neanche mille anime i fortunati sarebbero due amici del posto il biglietto milionario un gratta e vinci 50x è stato venduto l'altro ieri nel tardo pomeriggio all'interno del locale che si trova sulla strada che conduce a Passo Lanciano stamattina prendo il bar ho notato una fotocopia del biglietto vincente sotto la serranda racconta Maria Gianberardino titolare da ben 29 anni dell'attività insieme al genere Rocco Lisio ho provato un'emozione difficile da raccontare perché una cosa del genere da queste parti non era mai accaduta la proprietaria del bar non si sbilancia sui vincitori ma la caccia ai fortunati sembra già conclusa tutti gli indizi portano un uomo di pretoro con la moglie e due figli e un giovane di fara figlio Rumpetri i due amici frequentano spesso il bar il nostro augurio continua Maria e che a portarsi a casa i due milioni siano state persone che ne hanno bisogno e ce lo auguriamo anche noi a centro pagina invece la cronaca pianella il ragazzino accendeva il caminetto con l'alcol torcia umana a 13 anni è gravissimo un ragazzino 13 anni in prognosi riservata dopo essere stato avvolto dalle fiamme mentre tentava di accendere il caminetto con l'alcol l'incidente si è verificato a pianelle vedete proprio l'ambulanza dell'elisoccorso 3000 lettere ai furbetti si è dimenticato di pagare le tasse avviso ai furbetti del fisco l'agenzia delle entrate invita a rimediare coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuti a farlo in arrivo in Abruzzo 2782 lettere attraverso le quali si vuole dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi andiamo nel taglio basso Chieti morta la donna investita dal bus Giuseppina non ce la fa muore dopo sei giorni di calvario ora l'autista della panoramica che l'ha investita è indagato per omicidio stradale dalla procura di Chieti lei Giuseppina Venditti 69 anni di origini pugliesi si è arresa ieri mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara troppo grave il trauma cranico riportato nell'incidente avvenuto sabato pomeriggio a Chiediscalo a pochi metri di distanza dalla chiesa di San Pio X nel taglio alto il giallo piastrellista ucciso killer Braccati lungo filmato da due telecamere poi Chieti maglia strappata il giocatore pescarese arrestati gli ultra per lo sport Caprari carica il Pescara calma salvezza possibile Biancazzurri all'Olimpico contro la Roma con cinque ex giallorossi intanto in Lega Pro il Teramo oggi a Reggio Emilia in cerca di continuità e adesso andiamo ad aprire invece la prima pagina della città il quotidiano della provincia di Teramo e dunque concludiamo così la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali colpo in tabaccheria preso arrestato il rapinatore che accoltellò la commessa nella rivendita di via Roma questo è il titolo di apertura a centropagine invece Monuments Men Teramo i tesori di Sant'Agostino messi in salvo dal terremoto e poi l'intervento di Franco Esposito una scossa di coscienze nel taglio alto arrestato un cinquantenne ubriaco in goia il risultato dell'etilometro nel taglio basso troviamo Diodoro sei indagati a Roseto e Silvi chiuse l'inchiesta sugli apparti porta a porta dei rifiuti e invece c'è anche lo sport con la Lega Pro il Teramo è a pezzi a Reggio ci vorrà un'impresa e proprio sul Teramo c'è il punto di Federico De Carolis ricordarsi di essere diavoli è il titolo della riflessione sul momento del Teramo adesso apriamo invece lo spazio dedicato al nazionale prima di andare a vedere le prime pagine una notizia da poco battuta dalla agenzia Agi infatti l'agenzia scrive che è morto Fidel Castro icona della rivoluzione cubana il leader Maximo aveva 90 anni lo ha annunciato in televisione il fratello Raul Castro che ha preso proprio il posto di Fidel al momento della sua malattia infatti Fidel Castro era da tempo malato e allora invece adesso torniamo ai nostri giornali alle nostre prime pagine apriamo il Corriere della Sera bocciata la riforma Madia questo è il titolo a centropagina la Corte Costituzionale violate le competenze regionali Renzi dice paese bloccato il caso illegittime in parte le norme della pubblica amministrazione Zaia dice vittoria sul centralismo nel taglio alto paura per i fiumi evacuazioni ad Alessandra l'emergenza maltempo che ha coinvolto tutto il nord sono tre i dispersi al momento c'è anche una vittima e poi il 25 novembre il giorno dedicato al no alla violenza alle donne gli appelli antiviolenza con le donne tutti feriti andiamo sulla Repubblica bocciata la riforma Madia Renzi vittoria dei burocrati pubblica amministrazione no della consulta referendum ai mercati spread a 190 mercati che risentono delle tensioni pre-voto per la riforma costituzionale di spalla il Papa Dio vuole tutte le donne libere diamo alle donne la forza della denuncia si riprende il tweet di Papa Francesco proprio nella giornata di ieri dedicata al no alla violenza alle donne la stampa ora Renzi più forti in Europa se vince il sì indicheremo una terza via per sfuggire all'alternativa fra Trump e Merkel il forum alla stampa non serve un governo tecnico l'ultimo ha alzato le tasse a 41 anni non devo aggiungere nulla al curriculum così il presidente del consiglio e poi noi mercenari a caccia dei pirati parla un estone assoldato dalle compagnie 3.000 euro per l'ingaggio andiamo adesso avanti e andiamo sul sole 24 ore fisco pensioni e imprese ecco le novità della manovra tracciabili tutti i pagamenti dei condomini fondi per il dissesto idrogeologico sì della Camera alla fiducia sulla legge di bilancio voto finale lunedì poi il testo al Senato Padoan il ministro dell'economia dice nessun impatto dall'esito del referendum nel taglio alto la congiuntura industria in frenata ad ottobre CSC nel quarto trimestre PIL più 0,1% e poi le borse tassi in rialzo spread a 190 il divario BTP Bund ai massimi da maggio 2014 poi chiude in calo Wall Street intanto è da record asta dei CTZ per 3,5 miliardi balzo dei rendimenti che tornano sopra quota 0 e adesso il messaggero stop alla riforma degli statali la Corte Costituzionale boccia una parte dei decreti Madia selve l'accordo con le regioni a rischio stretta sui dirigenti enorme antifurbetti Renzi paese bloccato ecco perché cambio e poi la manovra c'è l'ok alla fiducia multe ai bagarini fino a 180 mila euro e ancora la volatilità prima delle urne verso il referendum spread in altalena i tre volti della speculazione sui mercati per quanto riguarda invece Roma lo staff del sindaco nomine raggi nuova inchiesta della procura c'è l'intervista a centropagina Claudio Ranieri strade come alla Parigi Dakar capitale abbandonata ritrovi l'orgoglio così l'allenatore dell'Eister sulla sua città e ancora Roma un direttore guiderà il Colosseo può essere straniero svolta di Franceschini nascerà un parco unico con i fori la selezione con bando internazionale nel taglio basso la violenza di genere giornata contro i femminicidi perché tenere gli uomini in ultima fila violenza di genere la condanna e gli errori e poi il delitto Varani le intercettazioni in carcere Foffo l'ho ucciso manco lo conoscevo Prato ho paura di crollare al processo andiamo sul fatto quotidiano adesso il governo scrive le leggi coi piedi e poi se la prende con la Costituzione schiforme scrive il fatto quotidiano la consulta demolisce la legge Madia i decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione sono illegittimi il governo non può procedere senza un'intesa con le regioni lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale ma subito il Premier trasforma la bocciatura in un argomento di propaganda per il referendum siamo circondati da una burocrazia opprimente a centropagina l'enasarco da 50 milioni al finanziatore di Renzi e poi Cucchi bis per la procura fu pestato dai carabinieri andiamo sul giornale referendum i sondaggi segreti divieto è girato con rilevazioni camuffate San Norberto davanti a San Simplice la consulta boccia la riforma Madia e Renzi perde le staffe poi Libero solidarietà tricolore faccio la carità solo agli italiani i nostri poveri sono in aumento e sempre più cittadini chiedono di destinare le proprie donazioni ai connazionali invece che ai profughi specie se islamici sinistra e caritas aiutate tutti ma che male c'è a scegliere così scrive il quotidiano diretto da Vittorio Fertri il governo stanzia 200 milioni per dialogare con gli africani perché basta uscire di casa per farlo la verità il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro invasione e sostituzione ecco la mappa dei paesi italiani dove gli italiani sono in minoranza conetta nel veneziano i 197 abitanti si sono visti rifilare 1256 profughi di cui 1216 maschi è il caso più eclatante ma non isolato da nord a sud la vita di molti piccoli borghi viene sconvolta sappiamo che insomma sui quotidiani di centrodestra sono molto critici sulla accoglienza ai migranti e poi a centropagina un'alleanza dei populisti per rifare i trattati dell'Unione Europea parla Marion Le Pen il tempo partiti sindacati associazioni affittopoli il nuovo elenco dei morosi mancati versamenti per svariati milioni le sedi del PD la fanno da padrone ma pure la CGL ha pesanti arretrati la Regione Lazio evita di sfrattare chi non paga e lo scandalo dilaga questo scrive il quotidiano il tempo l'unità Renzi insieme per sbloccare il paese dunque cambiamo schieramento ci spostiamo nel campo del centrosinistra questo è il quotidiano vi ricordo che fa riferimento al Partito Democratico il Premier e Paduan escludono qualunque ipotesi di governo tecnico dopo il referendum la consulta ferma parte della riforma Madia selve l'accordo con le regioni e poi a centropagina nella fotonotizia il sultano che ricatta l'Europa con la foto di Erdogan il Parlamento europeo chiede più democrazia Erdogan minaccia il manifesto il corpo del delitto il titolo sulla fotonotizia è dedicato al 25 di novembre manifestazioni di donne ieri in tutto il mondo per la giornata contro la violenza in Italia dove ogni anno le vittime sono più di 100 la protesta nazionale approda oggi a Roma con una mobilitazione organizzata da una vasta rete di associazioni e movimenti femminili e poi ritroviamo la notizia della consulta che ha bocciato la legge Madia che riforma nel pubblico settore e poi il mattino di Napoli la legge Madia stop della consulta necessaria all'intesa con le regioni fuori onda shock attacco ai manager della sanità campana cliniche nomine scoppia il caso danna andiamo avanti il secolo XIX che ovviamente essendo un quotidiano ligure punta l'attenzione sui danni provocati dal maltempo la Liguria conta i danni almeno 100 i milioni che serviranno per ripararli l'allarme migliaia di evacuati nella notte ad Alessandria le tragedie due vittime nelle piene in Piemonte e Sicilia andiamo sul gazzettino adesso sì al Veneto bocciata la legge Madia infatti diciamo che il caso parte proprio dal Veneto Zaya sentenza storica colpo al centralismo così il governatore del Veneto il premier Italia bloccata ecco perché cambia la costituzione la consulta vi ricordo accoglie il ricorso della regione la legge sulla pubblica amministrazione viola l'autonomia e poi caso profughi sale la tensione assalti e vendette clima infuocato nel Trevigiano adesso andiamo a vedere rapidamente anche le prime pagine dello sport apriamo la gazzetta Juve DNA vincente il titolo di apertura è un club speciale ti dà tanto ma ti chiede il massimo sempre alla fine il successo non è una gioia ma quasi un sollievo una scuola che domina in Europa Vialli ci spiega perché vedete le quattro foto di Zidane di Conte di Allegri e di Carrera che sono un po' i prodotti sfornati nel campo allenatori dalla Juventus che hanno comunque trovato la loro consacrazione nella Juventus tra Cinesi ed Empoli siamo al Milan Silvio e Gagliani mai dire closing tocca la Padula la Di Semina Dubbi Berlusconi punge tra Sino Euro Peschemi Montella non vinci con quelli titolare oggi alle 20.45 titolare il numero 9 ex bomber del Pescara e poi ieri la sfiorata di Pioli Gabigolle e altri quattro intercessioni dopo l'Euroflop addio a 15 milioni l'attaccante brasiliano a rischio prestito anche Biabani Jovetic Melo e Santon possono finire sul mercato per la Formula 1 che finale ad Abu Dhabi Hamilton scatenato ma Rosberg è lì duello incandescente andiamo sul Corriere dello Sport Napoli 40 milioni per Belotti e questa la clamorosa notizia di mercato offerta per l'attaccante titolare Azzurro il Toro non ha aperto la trattativa ma intanto è cominciato il dialogo e come già per Maximovic può avere una svolta due anticipi di oggi c'è il Milan a Empoli che punta tutto su Gianluca Lapadula Montella ha scelto il vice di Bacca Mijajovic spinge il Toro con il Chievo nel taglio alto ma come fate a discutere questa Juve vengono ricapitolati in po' i numeri della Juventus nel taglio basso invece tra Fiorentina e Sosa amore finito e divorzio dopo la polemica su Bernardeschi a fine stagione si cambia in corsa Oddo e Sarri e dunque ci sono anche le prime voci di mercato per il tecnico del Pescara tutto sport Zhang rifà l'Inter dopo la figuraccia in Europa il patrono arriva e pianifica il rilancio almeno 150 milioni per riportare ai vertici Nerazzurri Cames Verratti e Bernardeschi gli obiettivi Di Bala io come Alex e Pirlo l'argentino della Juve si confessa una platea di piccoli fan del Piero e Andrea erano i miei idoli da ragazzino domani col Genova probabile conferma delle tridente di Siviglia poi il Milan la Padula guida l'assalto alla Champions stasera ad Empoli alle 20.45 Montella questo per quanto riguarda la partita invece Montella Berlusconi ascolto e non commento gli interventi del presidente nel taglio alto Belotti gioco e firma oggi Toro Chievo Re 18 il Gallo recupera cerca altri gol decisivi ed è pronto a prolungare il contratto Mia Aelovic dobbiamo salire sempre più in alto e restarci nel taglio basso andiamo a vedere Tello Viola di Rabbia per ripartire questa l'intervista Germania Lipsia Settima Sinfonia Bayern a meno 6 e poi Rugby Gli Azzurri per il BIS con Tonga questo per quanto riguarda le prime pagine noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario ma prima andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6 eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo alle notizie dalla nostra regione ripartiamo dalla pagina Abruzzo del quotidiano il centro che pone in primo piano l'inchiesta che vede indagati di Matteo e Berardinetti nel mirino dei PM di Avezzano lavori da 12 milioni per le piste da sci i nomi dell'assessore regionale dell'esponente di Regione Facile spuntano nelle telefonate lunedì inizia l'analisi dei computer sequestrati dalla polizia le reazioni il consigliere di Sante Maria dice sono estraneo alla vicenda ricevuta anche una telefonata da Luciano D'Alfonso dopo aver lasciato il convegno ad Avezzano sul fenomeno dell'immigrazione con il capo della polizia Franco Gabrielli il vice presidente del consiglio superiore della magistratura Giovanni Legnini questo per quanto riguarda Berardinetti gli avvisi di garanzia hanno riguardato anche alcuni noti imprenditori del turismo invernale attraverso gli avvocati respingono le accuse e si dichiarano estranei ai fatti vedete anche il posizionamento degli impianti oggetto di questa di questa indagine la replica dei sindaci ma quei finanziamenti non sono mai arrivati da Vindoli a Cappadocia gli ex amministratori coinvolti respingono gli addebiti finiti nell'inchiesta anche il primo cittadino di Cerchio è quello di Pescasseroli Pino D'Angelo Sante non so su cosa si è stata messa in piedi questa inchiesta ma so che c'è una delibera di giunta regionale per fondi mai arrivati poi Lucilla Lilli D'Alfonso ci diceva che ci avrebbe finanziato gli impianti per l'innevamento ma poi non abbiamo saputo più niente questa la difesa degli amministratori passiamo adesso sul sul messaggero andiamo a vedere altre notizie sempre dalle pagine Abruzzo l'Abruzzo in volo la regione farà pubblicità sugli aerei stanziati 12,5 milioni per promuovere il brand territoriale Deppliant video e spot per vettori delle maggiori compagnie il finanziamento verrà ripartito con un bando che premierà il numero dei passeggeri allora andiamo a vedere insieme il servizio proprio sul sul bando direttore cosa cambia con questo nuovo bando della regione per la promozione per l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara beh certamente questo è uno strumento molto importante perché consente all'Abruzzo di avere finalmente uno strumento in linea con quello che fanno tutta una serie di altri territori e che si rivolge con degli obiettivi specifici di mercati di apporto e di modalità evidentemente di incentivazione che dovrebbero consentire l'ampliamento delle destinazioni servite e degli operatori che operano all'interno dell'aeroporto Un bando importante per la crescita ulteriore dello scalo pescarese Beh certamente noi dobbiamo ancora raggiungere un livello che ci consenta di poter dire di aver raggiunto diciamo quel punto di equilibrio di break even che normalmente si inserisce tra i 700 mili o un milione dipende dalla complessità dell'aeroporto evidentemente quindi noi auspichiamo come previsto nel nostro piano industriale di riuscire a raggiungere anche con questo bando questi obiettivi Questo grazie anche alle nuove rotte che avete inserito negli ultimi mesi Sì beh certamente il lavoro continua e l'aeroporto lo deve svolgere evidentemente ci sono delle nuove rotte dobbiamo consolidare quanto è stato fatto in questi anni evidentemente di continuare con sicurezza e certezza e c'è una regola che vale per gli aeroporti più si vola più si è incentivati a volare perché evidentemente tutti si accorgono che è interessante volare in Abruzzo Andiamo avanti pagina Abruzzo del centro sentenza della Corte Costituzionale metanodotti sicuri la consulta boccia la legge regionale per gli ermerlini è illegittimo il testo che disciplinava collocazione e distanza degli impianti e delle centrali Gassi l'EDG il direttore generale della regione Cristina Gerardis decisione che non fa piacere è chiaro che la politica fa sempre la sua parte però quando interviene la consulta c'è poco da fare allarga le braccia la Gerardis alla notizia della bocciatura della legge regionale ricordo aggiunge che c'era un precedente specifico in cui la regione chiedeva una sorta di preintesa sul metanodotto la Gerardis sottolinea come vi sia una giurisprudenza consolidata in materia di energia non so direi che effetti pratici avrà questa sentenza conclude ma alla regione non fa certamente piacere nel taglio basso oggi la presentazione patto tra imprese e regione prende vita la carta di Pescara export e occupazione agricoltura ai dati positivi alla fiera di Lanciano e poi autobus per gli studenti abbonamenti gratis su tua la graduatoria dei 4200 191 che hanno fatto richiesta adesso una notizia di economia Carichieti via libera a Ubi la BCE dà il primo ok alla cessione anche per Banca Etruria e Banca Marche questo per quanto riguarda la cessione delle 4 banche salvate dal governo adesso andiamo sulla pagina di Pescara tanti raggiri poche denunce gli anziani truffati tra sensi di colpa e profonda vergogna questa l'inchiesta con approfondimento del quotidiano il centro la psicoterapeuta invita a far sfogare chi è stato ingannato CGL stato disattento a chi invecchia CISL dice bisogna investire ovviamente c'è anche un va de me con i consigli utili per evitare di essere raggirati insomma i consigli sono un po' sempre di stessi stare attenti non aprire a sconosciuti non fidarsi mai troppo di chi non si conosce o si presenta con stranee motivazioni a casa e poi come cambia la vita dei pensionati vittime di colpi doveva riparare il citofono si è preso tutti i miei avere derubati nel sonno racchiudiamo a chiave ogni stanza e dunque chiaro che c'è paura ladro inseguito nella notte preso aveva appena caricato una macchinetta cambia soldi su un furgone rubato questo per quanto riguarda un'altra notizia di cronaca che arriva da Pescara andiamo avanti l'inchiesta non frena i piani la regione andrà alla City a fare da 42 milioni da Alfonso Accelera per la sede unica in via Tiburtina Alessandrini pronto a blindare il cambio d'uso dell'edificio di Sciarra e Sebastiani intanto per quanto riguarda la viabilità asse riaprono le rampe alle torri e camuzzi riapre la rampa di entrata dell'asse attrezzato all'altezza delle torri e camuzzi e quanto stabilisce un'ordinanza dirigenziale delle comune l'apertura avverrà lunedì prossimo comune tasse al massimo anche nel 2017 sempre per quanto riguarda Pescara la giunta vara il bilancio da 107 milioni per l'anno prossimo e conferma liquote e tariffe già in vigore di imposte e servizi e poi il progetto del Movimento 5 Stelle lavori per pagare tributi e vasi la proposta arriva in commissione la sentenza sanzificio bocciato e ricorso contro lo stop all'impianto dunque ha avuto ragione il comune di Pescara che aveva emanato l'ordinanza lo scorso 2 aprile firmata dal sindaco Alessandrini con la sospensione immediata dell'attività lavorativa il tarra ha respinto il ricorso del titolare del sanzificio di via Raiale Rocco Schiavone stiamo ancora avanti stamani in via Paolucci a Campagna Amica c'è il Marmellata Day e poi sopra il luogo dell'assessore Allegrino a Fontanelle parte la manutenzione di 49 case popolari nel quartiere al confine con San Giovanni Tiatino adesso cambiamo argomento parliamo di lavoro istituto di Marzio ragazzi sappiate cogliere le opportunità del nuovo lavoro imprenditori ed esperti dispensano consigli e spronano gli studenti dovete avere fame ma anche umiltà e allora andiamo a sentire i consigli degli esperti si tratta degli incontri che noi facciamo in giro per diverse scuole in Italia ma in questo caso qui a Pescara con l'intenzione di fare incontrare il mondo del lavoro con la scuola insieme a noi quindi oltre a me che appunto sono quello che ha fatto questo libro ci sono anche c'è la IDP quindi l'Associazione Italiana Direttori del Personale con diverse testimonianze quindi di figure che lavorano nell'ambito della selezione all'interno delle aziende e che quindi interagendo con i ragazzi anche grazie alle loro domande quindi una presentazione molto interattiva si riesce a dare risposte a dubbi a dare indicazioni su come presentarsi meglio alle aziende e più in generale si cerca di dare un contributo mettendo in contatto i due mondi che in passato si sono parlati di meno e adesso sia con l'alternanza scuola-lavoro sia con queste iniziative anche con iniziative come queste si stanno via via incontrando e conoscendo meglio Quali lavori di quali professionalità c'è oggi più bisogno? Ma insomma ci sono bisogno di diverse professionalità a seconda un po' dei settori è chiaro che c'è una se ne sta se ne sta parlando proprio in questo momento nell'aula una rivoluzione digitale in corso e quindi anche tutta una serie di attività legate alla digitalizzazione al progetto di industria 4.0 Il giovane rappresenta quella linfa vitale per il futuro che è il futuro di tutti non è soltanto il futuro del ventenne che va alla ricerca di una occupazione o che vuole inventarsi un'occupazione è fondamentale per costruire il futuro di un paese di un network fatto di conoscenze e competenze e di tutto ciò che dà la possibilità al nostro paese guardando alla nostra cara Italia di poter entrare in un contesto che oramai è sempre di più competitivo globalizzato sempre più si confronta con delle realtà che cambiano in maniera repentina Sul messaggero altre notizie da Pescara in 600 al centro antiviolenza i dati raccolti dal centro Ananche le storie impressionanti del camper della polizia alla giornata in difesa delle donne tra le vittime in aumento le italiane di condizione sociale elevata il primo passo verso l'inferno e spesso lo stalking e poi per quanto riguarda la fiuma una guida rosa per le tute blu Alessandra Tersigni al vertice del sindacato dei metalmeccanici svolta storica comincerò dalla lotta al precariato andiamo ancora avanti sul quotidiano il messaggero si ustiona con l'alcol grave un ragazzo pianella 13enne tenta di accendere il fuoco e si trasforma in una torcia umana e ricoverato al centro grandi ustionati in quel momento era solo in casa ma le sue grida disperate hanno richiamato i genitori sul caso indagano i carabinieri andiamo adesso sulla pagina di Montesilvano del centro e dunque torniamo al quotidiano il centro la nuova viabilità a febbraio aprirà il primo dei tre ponti sul Saline di Marco altri due ponti pronti a fine 2017 festa per l'infrastruttura Villa Carmine collega Via Tamigi di Montesilvano a Contrada San Martino di Città Sant'Angelo dalla forestale sequestrato il video dei due pitbull che lottavano ricorderete oggetto anche di un servizio con anche aggressione la parte di striscia la notizia la notizia che abbiamo visto in precedenza del 13enne ustionato a Pianella mentre cercava di accendere il camino con l'alcol e poi strappa in goia gli scontrini dell'alcol test poi aggredisce i carabinieri è stato arrestato altra notizia che arriva da Montesilvano nel taglio basso visita guidata la scoperta dell'aspoltore nascosta giro tra neviere cripta e ossare poi blitz dei nas nell'area metropolitana sequestrato quintale di cibi nelle gastronomie dei market e ancora giornata contro la violenza sulle donne flash mob degli studenti in piazza la pagina di penne popoli dell'alta val pescara bilancio gonfiato con una stalla esposto in procura santofemia tre consiglieri della minoranza denunciano presunte irregolarità Crivelli questo è procurato allarme adesso torniamo sul quotidiano il messaggero e andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila call center dalla camera spilaglio per i lavoratori passa una misura che esclude il personale dai ribassi d'asta nelle gare d'appalto l'Olli ha incontrato le maestranze situazione seria ma c'è il nodo subappalti allora andiamo a vedere insieme l'incontro con i lavoratori da parte del vice presidente della regione un'avvertenza drammatica quella del contact center transcom dell'Aquila dove non c'è certezza di riassulsione alle stesse condizioni per buona parte dei lavoratori il nuovo bando del committente IMS infatti si teme sarà il massimo ribasso e senza garanzie per i subappalti che alla transcom dell'Aquila sono quelli della lavorabile 470 addetti su 580 oggi i lavoratori hanno incontrato il vice presidente della regione Giovanni Lolli a Palazzo Silone e si è ragionato sulle strategie da mettere in campo per garantire i livelli occupazionali e salvare quella che oggi all'Aquila è l'azienda più grande i lavoratori si sono allarmati perché l'Inps ha anticipato dei criteri di selezione della gara che puntano sostanzialmente che avranno come conseguenza una gara al massimo ribasso perché si assegnano 60 punti sul 100 totali alla valutazione dell'offerta economica l'offerta economica su quei 60 punti è al 95% basato sul costo del lavoro siamo confortati nella notizia che ci dà la senatrice Pezzopane in diretta e cioè che il senato ieri ha approvato un emendamento un emendamento molto importante perché esclude il costo del lavoro dai criteri che possono essere adottati nei bandi per quanto riguarda i bassi io ve lo dico così dopo il terremoto questa città si è retta non è tracollata diciamo grazie al fatto che alcune migliaia di ragazzi di giovani fondamentalmente molti dei quali tra l'altro con diplomi laureati eccetera hanno potuto lavorare nei call center andiamo avanti primari e il PD verso il dietrofront siamo a quanto si sta preparando per le amministrative 2017 nel capologo di regione il partito potrebbe decidere di non farle se fosse l'unico dello scenario si è parlato nel corso di un vertice il segretario Albano ci interessa fare la coalizione nel mirino le possibili iniziative di stampo civico durante la riunione non si è parlato delle ipotesi di candidatura restano papabili Pietrucci e Lolli poi 5 Stelle salta all'ultimo la visita di Di Battista sempre per quanto riguarda il tour per il no al referendum adesso andiamo andiamo sul avanti scusate sul messaggero e passiamo alla pagina di Chieti arrestati i tre ultra rapinatori Gip tifo malato e irrazionale finiscono ai domiciliari responsabili dell'aggressione al giocatore del Pescara Deninis c'è il pericolo di reiterazione del reato svolta dalle indagini della Digos l'atleta campano di calcio a 5 lasciato in strada torso nudo strappati di dosso la felpa e la polo poi guardia grele scoppia la rissia per il posto migliore denuncia per tre venditori ambulanti nel taglio basso morta la donna investita dal bus il decesso dopo sei giorni l'autista indagato per omicidio stradale poi violenza contro le donne tutti i dati del centro alfa nella giornata dedicata appunto al no alla violenza alle donne Lancianova Stortona questa la pagina schianto sulla provinciale gravissimo un quarantenne pioggia e nebbia frontale tra due punto l'uomo in prognosi riservata a Chieti e vedete le macchine davvero provate da questo incidente inquinamento a tollo il sindaco radica per primi a denunciare su quanto accaduto nella ex soggere incontrata Venna indaga la forestale su questo su questo aspetto del inquinamento del torrente Venna orari e tariffe più alte le spine dei pendolari sull'abbonamento del 15% per quanto riguarda i pullman e le lamentele dei sindacati della Pilkington ovviamente gli operai usufruiscono degli abbonamenti ecco la stagione teatrale in scena dal 2 dicembre a Lanciano al Fenaroli sei spettacoli di prosa tra i protagonisti Paola Quattrini Eros Pagni Geppi e Gli Gesis poi ritorna Agroalimenta con 70 espositori sempre per quanto riguarda Lanciano adesso invece passiamo sulla città andiamo a vedere anche qualche notizia da Teramo e provincia allora andiamo a recuperare insieme il giornale ovviamente a grande attenzione c'è sulla questione terremoto che continua a tenere banco in città continuano le verifiche e purtroppo la conta dei danni la polemica intanto in commissione in regione Mariani strumentalizza i terremotati 5 stelle sul caso degli annessi rurali siamo solidali con i terremotati ma non vogliamo altri abusi opere inutili sono manufatti inutili visto che sono già previsti moduli abitativi provvisori per quanto riguarda la sanità vediamo di riaprire la pagina in maniera corretta Riccardo Mercante ospedale unico stiamo perdendo tempo prezioso così il consigliere regionale dei 5 stelle nel taglio basso domenica a Teramo il tour reghista per dire no alla riforma con Paolo Arrigoni la cronaca ha arrestato il rapinatore della tabaccheria il 4 maggio il 21enne ha saltato il punto vendita di via Roma ferendo la commessa con una coltellata un giovane marchigiano l'ordine d'arresto gli è stato notificato nel carcere di Pisa dove era già rinchiuso da qualche tempo per un'altra rapina è stato incastrato dal video di sorveglianza e poi l'inchiesta di Irti Soccer frode sportiva l'inchiesta su Campitelli di Giuseppe va a Savona il tribunale di Catanzaro accoglie l'eccezione territoriale sollevata dalle difese i processi saranno 13 andiamo rapidamente avanti i Monuments Men i tesori di Sant'Agostino salvati dal terremoto vigili del fuoco carabinieri e sovrintendenza hanno rimosso le opere d'arte dalla chiesa inagibile la situazione dei cimiteri è disastrosa confermati timori dopo il sisma la maggior parte dei padiglioni è inagibile nelle frazioni è anche peggio la proposta visite accompagnati dalla protezione civile in determinati giorni e l'idea del consigliere Gian Guido d'Alberto con la fusione rischiamo di perderla non è detto che il ministero approvi la doppia sede per la camera di commercio del Gran Sasso continuano dunque le polemiche per quanto riguarda la fusione con l'Aquila e la scelta della sede della nuova camera di commercio e sempre per i temi legati al commercio Codacons chiede dei Black Friday fino a Natale è stata abbastanza un successo questa iniziativa importata dall'America intanto lunedì ci sarà la giornata della trasparenza sempre per quanto riguarda la camera di commercio di Teramo andiamo avanti adesso rapidamente il corso sarà libero dal cantiere il 9 dicembre e questo per quanto riguarda i lavori in centro storico a Teramo andiamo anche in provincia chiusa l'inchiesta di Odoro sei gli indagati stralciata a metà delle posizioni la magistratura stretta il cerchio sugli appalti di Roseto e Silvi la dirigente Giuliesi indagata anche la dirigente Mastropietro ora in servizio a Giulianova e finita sotto inchiesta anche lì comuni coinvolti sono quattro Silvi, Giulianova Roseto e Mosciano l'inchiesta turbativa d'asta abuso d'ufficio è falso i reati per i quali la procura ha proceduto in questi due lunghi anni di indagini scusate ha proceduto in questi due lunghi anni di indagini volte a far luce su presunte irregolarità negli affidamenti milionari dei servizi di igiene urbana messe in atto per favorire la Diodoro ecologica adesso apriamo la pagina dello sport e dunque torniamo sul quotidiano il centro partiamo dalla Serie A e dal Pescara Caprari nella redazione del giornale Pescara bisogna ritrovare la fiducia questa esortazione della punta l'attaccante in dubbio per la sfida di domani sera a Roma se segno esulto e comunque chiedo la maglia di Totti sarà una serata particolare perché sono cresciuto lì ma ormai la Bruzza è diventata la mia seconda casa ci serve una vittoria per sbloccarci la nazionale è un sogno che bella emozione la chiamata di ventura ho subito telefonato ai miei genitori la padula mi manca tanto con Oddo il salto di qualità devo solo ringraziarlo abbiamo molte possibilità di salvarci non siamo inferiori all'Empoli al Palermo e al Crotone questi alcuni flash di quanto dichiarato da Caprari al giornale il centro domani all'Olimpico ecco chi si rivede Oddo rilancia Baebek l'attaccante pronto a scendere in campo a distanza di 40 giorni dall'infortunio in caso di conferma della difesa a tre giocarebbero Vitturini Zuparic e Biraghi il tecnico deve scegliere il modulo ma alla fine dovrebbe essere riproposta la soluzione usata con la Juve Aquilani rischia lo stop a sorpresa potrebbe essere convocato Verra e Spalletti intanto recupera il capitano Francesco Totti nel taglio basso primavera senza il portiere Antonino le altre formazioni giovanili a riposo e Biancazzurri a Benevento a caccia del sorpasso in classifica questo per quanto riguarda l'universo Pescara adesso andiamo in Lega Pro prima l'inchiesta di Irti Soccer abbiamo già letto Savona Teramo gli atti vanno a Savona questa è la decisione del GIP di Catanzaro che riguarda l'inchiesta che coinvolge il presidente del Teramo Luciano Campitelli e l'ex direttore sportivo della formazione del diavolo Marcello Di Giuseppe il calcio giocato invece il Teramo Reggio Emilia senza Jefferson e Croce la quindicesima giornata del Girone B risentimento muscolare e sospetto stiramento per il brasiliano che si apprestava al rientro niente da fare anche per l'altro attaccante l'allenatore Nofri forse recupera Bulevardi allora andiamo a sentire il servizio alla ricerca della continuità il Teramo arriva alla trasferta del MAPEI Stadium città del Tricolore di Reggio Emilia con questo input la vittoria sull'Ancona e quella di Coppa con l'Isiena nella settimana dell'ufficialità del nuovo DS Bolla hanno ridato un briciolo di serenità all'ambiente bianco-rosso anche se fare risultato sul campo della Reggiana una delle seconde del raggruppamento a meno due dalla capolista Venezia sarà tutt'altro che semplice il tecnico Nofri ripartirà dal 4-3 visto con l'Ancona con Sansovini centravanti affiancato da Di Paolo Antonio e Petrella in difesa Caidi potrebbe riprendersi il posto da titolare a spese di Manganelli in mediana ballottaggio Bulevardi Steffè il giocatore siciliano in prestito dal Pescara ha superato in poco tempo il problema alla caviglia ed è stato convocato non sarà al 100% e sarà Nofri a decidere se può partire dal primo minuto altrimenti toccherà Steffè non convocati Jefferson e Croce il brasiliano era sulla via del recupero ma ha avuto un'ennesima ricaduta dei precedenti acciacchi mentre il bomber di Coppa Croce si è fermato nelle ultime ore nella Reggiana allenata da Leonardo Colucci ci sono gli ex Narduzzo e Calvano e un altro ex un po' più virtuale come Mogos che dopo aver svolto la preparazione pre-serie B ha lasciato il gruppo dopo la sentenza di secondo grado altre vecchie conoscenze in Abruzzo sono gli ex Chieti il centroavanti Guidone e il terzino Giron l'ex Pescarese Bovo l'ex Aquilano Maltese e l'ex Giuliese Trevisan 4-3-1-2 il modulo con Nole giocatore strategico in quanto trequartista fischio di inizio questo sabato ore 18.30 agli ordini dell'arbitro Kindemi di Viterbo intanto novità si registrano sul fronte dell'inchiesta Dirty Soccer stamani il gruppo di Catanzaro Assunta Maiore ha accolto le eccezioni di incompetenza territoriale delle difese il procedimento penale relativo alla costola di Dirty Soccer della partita Savona Teramo finisce così a Savona nelle prossime settimane sarà diramata la data per la prima udienza preliminare nel tribunale della città Ligure nell'inchiesta sono implicati tra gli altri il presidente del Teramo Luciano Campitelli l'ex direttore sportivo Marcello Di Giuseppe che devono rispondere di concorso in frode sportiva gli altri personaggi implicati sono l'ex calciatore Davide Matteini l'ex consulente del Savona Marco Barghigiani e l'ex collaboratore tecnico del Parma Giuliano Pesce in serie di Russo e Galizia i dubbi della vastese ballottaggio tra i Bebi Santi Rocco e l'Argentino Serrago nell'attacco dell'Avezzano nel San Nicolò Rebus Napolano questo per quanto riguarda il turno della tredicesima giornata domani in campo alle 14.30 nel podismo doping la Del Rosso rischia due anni di squalifica la 44enne di Letto Manopello in silenzio in attesa delle controanalisi Meldonium vietato da gennaio andiamo adesso al basket di A2 domani la nona giornata Mortellaro vai Chieti fai vedere chi sei il pivò carica i compagni alla vigilia della sfida con Treviso l'ex martellosi del Mantova i tifosi del Roseto da applausi pallamano A1 città Sant'Angelo per il poker in serie A2 derby tra Sebac Bwind e HC Pescara il volley di A2 di B Pineto e Montorio alla riscossa la sieco impavida non tessera il polacco Rutecchi nel taglio basso il calcio a 5 il programma del weekend il Pescara all'esame Imola turno agevole invece per l'acqua e sapone noi ci fermiamo con la rassegna stampa mattino 6 torna lunedì alle ore 7 la nostra informazione invece con il TG6 alle 14 e alle 19 e poi la terza edizione alle 23 grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video